Il santuario del 2011 compie 800 anni. Inizio a dirlo per tempo perché fare la torta, appiettare le candeline, accenderle tutte, spegnerle tutte sarà una cosa lunga. Questo appresso che è stato restaurato può fare anche parte di questa voglia di rivedere il santuario al suo massimo splendore. Quindi diciamo così, mentre ringrazio gli amici di Montovolo, dottor Sergio Angeli perché è qui come presidente, di tutti gli amici che sono venuti oggi alla messa questa mattina, alla messa adesso, per questo dono che ci fanno di recuperare una pittura nel santuario, cogliamo proprio l'occasione per dire a tutti che c'è posto per tante idee e per chi ha voglia di lavorare qui nel santuario in sé e nel barco. Ringrazio Graziele Leone, il nostro sindaco, per l'impegno che ha propuso perché il santuario avesse l'acqua, che potrebbe sembrare una cosa da poco ma è una cosa molto necessaria. Non vorrei citare come paramenti il bagno ma è una cosa che fa molto piacere, credo, arrivare su, su dati potessi lavare le mani, mi sembra una cosa sciocca ma qui ragazzi l'acqua, il mondo dove la trova.